Ops a tutti, miei cari upsini e upsine, come, 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 come state? Spero molto molto bene, io sto morendo di caldo, vi giuro, sto pezzando malamente, però, 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 oggi siamo qui per registrare questo nuovissimo video. Dove, sinceramente, ho fatto fatica a trovare le idee su cosa registrare. Avevo proprio un vuoto di memoria, cioè, non sapevo proprio cosa registrare. E quindi ho provato a trovare un titolo anche abbastanza accattivante, così, così. Quindi, non lo so, guardate il video fino alla fine, va bene? E ditemi se vi è piaciuto. Sarà un normale videotrick, tra virgolette, perciò è quel che è. Quindi, adesso, indossate un paio di cuffie auricolari. Non fate caso alle mie condizioni e, soprattutto, se sto sudando, perché, sì, sto morendo di caldo. Ma, 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 è arrivato il momento di cominciare, cominciare. Adesso devo intrattenervi. Perciò, cominciò con questo oggettino qua che non saprei definire. Oggi cercherò di farti trovare il tuo trigger, quello che ti rilassa un po' di più. Guardate, 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 guardate. Guardate che carino. Proprio da vicino, 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 vicino. Se dovessimo definirlo, direi che è una spugna per lavare i piatti, le pentole, non lo so. Ma noi, allora, l'ho presa in un negozietto tipo Tiger, che vendeva tutte cosette un po' strane. Non vi preoccupate, non li farò durare tanto i trigger, perché so che dopo un po', scoccia, no? Quindi ancora un po' solo qua davanti, così vi faccio vedere. E basta, cioè, voglio proprio essere veloce. Intanto ho ricevuto il telefono con gli appunti perché mi si era spenta a caso. Prendiamo un ventaglio. Questo è di mia sorella. Ti faccio un po' d'aria. Faccio un po' d'aria pure a me. Con questo secondo me viene bene fare così, così. Ma guarda che bello che non l'avevo mai fatto, quindi... Chiuditi i ochi. Chiuditi i ochi. Chiuditi i ochi. Buon appetito! un po' d'aria ancora, rilassati, 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 come sempre scusami se guardo dietro ma è per vedere se è tutto a posto con l'inquadratura e con le luci, anche se faccio un po' fatica, però va bene lo stesso. Sì, è un pochino rotto però vabbè, basta dai, prendiamo subito il trigger dopo, ovvero questa maschilina, aiuto. Questa mascherina qua con le palline, spero non mi faccia poi difetti in faccia, facciamo così e si dovrebbe sistemare un po' tutto. Ecco qua, le sentite dentro le palline. Ecco qua, le sentite dentro. Guardatele dentro le palline che si muovono. Qua di solito viene bene anche un tapping però è un po' piccola da tenere. dai la posa. Posiamola. Allora, adesso farò un pochino di sussurri qua vicino al microfono, sperando che vi possano rilassare. Sì. E poi farò un ultimo trigger abbastanza veloce. quindi sussurri qua vicino al microfono. Quindi sussurri qua vicino. Anche se c'è questo caldo, vedete qualcosa di fresco, di fresco. Accendete il condizionatore o il ventilatore. pensate che io il condizionatore non ce l'ho, o almeno quando uscirà questo video ve lo avranno montato in casa. perché oggi che sto registrando è il 17 luglio, il 17 luglio e vengono a montarmelo in casa. a montarmelo il 25 luglio. Quindi il 25 luglio. 25 luglio. E adesso magari vi starete chiedendo come faccio a sopravvivere con tutto questo caldo senza un condizionatore a casa. Non lo so neanche io, ma ce l'ho fatta. Pensate ad adesso che io sto registrando e ho la finestra chiusa perché se no si sentono le macchine. Il ventilatore è spento e la porta di camera mia è chiusa. Pensate un po', pensate un po', che caldo, che acqua dentro. Ma veramente un sacco di caldo, vi giuro, proprio, 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 tanto, tanto, tanto. Adesso, visto che fa così tanto caldo, ho preso questo bel asciugamano rosso per... per asciugarti un po' il viso. È un po' grande, però non importa. per asciugare il viso, asciugare qua, su tutta la faccia. Aiuto. Facendo un po' di scratching, un po' di visual trigger, io faccio scratch, 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 scratch. Aspettate che... cambio a mano, cambio a mano. lo faccio anche io addosso, un po' di scratching. Lo faccio anche io addosso. un po' di scratching. Faccio anche qua sotto, sul collo, sul collo, sul collo. Sul collo. Ottimo. Facciamo scratch, 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 scratch. Comunque penso sia giunto il momento di salutarci, lo so che questo video non è uscito lunghissimo, ma in queste condizioni c'è, fa veramente caldo e non riesco neanche io a registrare, tra virgolette. Perciò spero possiate apprezzare quanto appena ho fatto. Quindi, cucù, cucù, adesso tocca a voi iscrivetevi al canale, se siete nuovi, proprio qua sotto, per entrare a far parte della Ups Community. E se siete dei maschietti, diventare i miei Upsini, mentre se siete delle femminocce, diventare le Upsine. Da stare attento a come mi muovo, che faccio solo casino. Poi, poi, mi raccomando, lascia un bel like di supporto, mamma mia, perché ce ne va tanto. E commenta con tutto quello che ti passa per la testa, va bene? Io ti ricordo che il mio canale è un posto sicuro, quindi non farti problemi a scrivermi. A scrivermi. Quindi, il video di oggi finisce qua, ma se tu vorresti stare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist. E qua, 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 sullo schermo, il tasto per andare sul mio canale, vedere qualunque video tu sceglierai di vedere, vorrai vedere. Quindi, 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 buonanotte ragazzi, un bacio. E noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Bye bye. Buonanotte, 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 buonanotte. Grazie a tutti.